CERCHEREMO URA DI CAPIRE Le acque dell'oceano sono ricche di plankton animale o vegetale. I fondali dell'oceano raccolgono continuamente ogni sorta di residui. Queste due inesauribili fonti di nutrimento occupano le estremità della catena alimentare. In vertebrati o vertebratiche siano, i planktofagi si nutrono di plankton, costituito da alghe e da larve microscopiche che galleggiano o nuotano nell'acqua. I carnivori si nutrono di carne, hanno denti speciali, adatti alle loro prede. I trituratori di conchiglie o malacivori hanno denti palatini. I pescivori, denti che si incrociano, fini come aghi. I carnivori hanno anche particolari metodi di caccia. I ferini inseguono le prede. Altri tendono in boscate. I cannibali mangiano i loro sossili. I più grandi carnivori oceanici sono scomparsi. Erano il Duncleosteus, un placoderma, e gli Opleurodon, un plesiosauro. Gli erbivori si nutrono di alghe. Alcuni pesci carnivori sono diventati erbivori alla fine dell'evoluzione, avevano perso i denti e cambiato territorio. Gli onnivori mangiano tutto ciò che trovano. Limivori e detritivori si contendono le scorie di ogni genere che cadono sul fondo. Particelle organiche, feci, cadavere di animali, piante morte o uova. I limivori filtrano le scorie microscopiche. I detritivori mangiano quelle più voluminose. I primi pesci non avevano mascelle ma una bocca. Una semplice apertura munita di dentini o piastre che trituravano e laceravano il cibo alla meno peggio. Si chiamavano agnati, cioè senza mascella. L'acquisizione della mascella ha permesso a chi se ne è dotato di afferrare il cibo e quindi di sceglierlo, accumulando così più energia per partire alla conquista di nuovi territori. Una mascella non si inventa. Sono state utilizzate le branchie che già c'erano. Sostenute da uno scheletro osseo formato nella parete della faringe, esse sono composte da una serie di archi. L'arco mandibolare, il più vicino alla bocca, è stato destinato a una nuova funzione. Il secondo, l'arco ioide, lo sosterrà. La bocca si è così spaccata, acquistando la possibilità di aprirsi e chiudersi. È nata una pinza, strumento utile alla nutrizione perché permette di afferrare. I dentini, che già esistevano, hanno finalmente trovato un supporto fisso e formano la dentatura. Questa nuova mascella ha bisogno di solidi punti d'appoggio. Il nuovo arco osseo cambierà forma progressivamente per meglio adattarsi alle altre parti del cranio. Nuotare significa avanzare nell'acqua facendo dei movimenti a comando. Nuotare per reazione consiste nell'assorbire una certa quantità d'acqua in una cavità del corpo e poi lasciarla andare bruscamente. L'animale che nuota è sempre sospinto all'indietro ed avanza a ritrovo. Tra gli invertebrati, i primi artropodi nuotavano comunicando alle loro appendici laterali dei movimenti ondulatori orizzontali. La coda serviva loro da timone. Le ondulazioni verticali sono caratteristica dei vertebrati marini. La testa affende l'acqua e il corpo subisce delle ondulazioni per contrazione dei muscoli laterali. Degli stabilizzatori in origine fissi saranno sostituiti da pinne appaiate che permetteranno ogni sorta d'acrobazia grazie alla presenza di raggi ossei che le rendono flessibili. La pinna caudale amplifica le ondulazioni e serve da propulsore. Alcuni rettili terrestri tornati al mare nuotano con battiti rotativi alternati utilizzando le zampe come remi. Gli itiosauri combinavano perfettamente ondulazioni e battiti. Furono senza dubbio i migliori nuotatori del loro testo. Questo passaggio progressivo ha visto pesci che, a partire dalle pinne, hanno formato le quattro zampe che permetteranno loro di partire alla conquista della Terra e che diverranno in seguito braccia e gambe dell'uomo. 400 milioni di anni fa fecero la loro comparsa dei pesci le cui pinne erano munite di un lobo carnoso coperto di scaglie. Una sezione della pinna pettorale di Eustenopteron ci mostra come la struttura ossea del lobo contenga le stesse ossa delle zampe dei futuri vertebrati che camminano, cioè omero, radio, cubito e carpo. Mancano soltanto le dita. Il Panderictis, suo cugino, col suo cranio appiattito e col dorso senza pinna, non assomiglia già più ad un pesce. Il suo corpo è pronto ad affrontare la Terra, ma la struttura ossea delle sue pinne è troppo concentrata per potersi evolvere in zampe munite di dita. Qualche milione d'anni dopo, la Terraferma accoglie i primi tetrapodi che hanno mantenuto una pinna caudale da pesce. Ictiostega e il suo contemporaneo Acantostega, Goffi-Anfibi, si spostano sul zampe di 7-8 dita, mentre tutti gli odierni tetrapodi ne hanno al massimo 5. Finalmente, possono camminare. Siamo dunque passati dalle pinne alle zampe. Il camminare è esistito prima o dopo l'uscita dalle acque, un enigma pronto ad essere svelato. Sopravvivere significa mantenersi in vita, ma anche assicurare la sopravvivenza della propria specie. Per ottenere ciò, sono coesistite numerose soluzioni. L'oviparità consiste nel riprodursi tramite uova che contengono un embrione. Quest'ultimo si sviluppa a partire da una riserva nutrizionale chiusa in un involucro. Esistono due modi di deporre le uova. La deposizione massiccia consiste per la femmina nel deporre migliaia o milioni di uova. Il maschio vi disperde sopra il suo lattice. Molte uova muoiono senza essere fecondate, ma nonostante i predatori, ne sopravvivono sempre. Nel caso di deposizione ridotta, le uova vengono fecondate nel corpo della femmina, laddove il maschio per penetrazione ha inoculato il suo liquido. Queste uova sono racchiuse in un involucro rigido o in una solida conchiglia porosa all'aria. L'ovo viviparità è una particolare forma di oviparità. Le uova si schiudono nel corpo della madre. Le prime nascite in ambiente marino sono documentate da alcuni fossili di Tiosauro che mostrano dei piccoli mentre escono dal ventre materno. Questi rettili abituati al nuoto in alto mare non avevano più la possibilità di recarsi a terra per deporre le uova. Alcuni squali erano sicuramente vivipari come oggi. Gli embrioni chiusi negli scomparti dell'utero erano legati alla madre con un cordone umbilicale e nutriti attraverso la placenta. Circa 380 milioni di anni fa alcuni pesci escono dall'oceano e si adattano alla terraferma. Per passare dall'acqua all'aria il loro organismo ha conosciuto cambiamenti irreversibili. Una volta usciti alcuni restano in prossimità delle rive vivendo tra terra e mare si tratta degli anfibi altri si allontanano e si apprestano a dominare la terra i rettili. E' allora che accade qualcosa di prodigioso alcuni rettili tornano al mare dei loro antenati. Ritorno non significa marcia indietro l'evoluzione non è a senso unico conduce ad una vita possibile ma permette anche la sopravvivenza. Vittime del clima o dei loro antagonisti non si sa ma questi rettili per salvare la loro specie si riadattano ad un ambiente dimenticato. Dovranno far fronte ad un'infinità di nuovi obblighi ad esempio respirare l'aria vivendo nell'acqua nuotare con le zampe catturare pesci e quindi modificare la loro dentizione ma soprattutto dovranno essere ancora in grado di trascinarsi fuori dall'acqua per deporre le uova. il ritorno all'acqua provoca anche delle novità la più importante è stata scoperta presso gli itiosauri troppo adattati al nuoto per accedere al suolo fanno nascere i piccoli nell'acqua molto più tardi alcuni mammiferi seguiranno lo stesso percorso. non si conoscono le funzioni di alcuni organi ritrovati allo stadio di impronte o di strutture fossili se non comparandole con quelle conosciute nelle specie viventi. Dei piccoli animali assumevano a volte un aspetto terrificante come questo trilobite o questo agnate trovati in Cina. Alcune difese erano dissuasive ad esempio gli aculei del ritorno piccio Miocidaris o la pinna dorsale dello Xenacanthus munita di un pungiglione d'osso o quella del Doripterus lunga e puntuta come uno spiedo. Trasformare la propria pelle in carapace con o senza scaglie era un modo per mettersi al riparo sia che si fosse l'antenato delle tartarughe o quello dei coccodrilli. Ci si poteva difendere anche tramite vistose esibizioni. Alcuni cefalopodi avevano probabilmente delle tasche d'inchiostro come quelle delle attuali seppie. In caso di pericolo i brachiopodi chiudevano immediatamente le valve e i molluschi si richiudevano nelle loro conchiglie. È probabile che le prime meduse avessero già delle cellule urticanti e i trilobiti appallottolandosi tutti passavano inosservati. In cima al cranio di Arandaspis uno dei primi agnati oltre agli occhi hanno trovato due aperture pineali. Gli anfibi ne avevano soltanto una. Questa sorta di occhi derivava da un organo posto nel cervello. Essi non fornivano immagini ma probabilmente permettevano di percepire la luce. Nell'uomo divennero l'epifisi. L'opabinia un artropodo primitivo aveva cinque occhi sopra la testa. Alcuni trilobiti avevano occhi sfaccettati come quelli delle mosche. A dire il vero altri dovevano essere ciechi. Non si è trovata traccia dei loro occhi. Numerosi artropodi erano dotati di antenne. Le membrane sopra la testa e sui fianchi di alcuni agnati erano probabilmente degli organi elettrici composti da cellule ricettive alle correnti. Tutti i pesci avevano linee sensoriali lungo il corpo e sulla testa. Costituiscono gli organi di senso cutanei sensibili alla pressione e ai movimenti dell'acqua. Nelle cavità dell'orecchio interno avevano anche delle concrezioni mineralizzate gli otoliti che spostandosi indicavano le posizioni dell'equilibrio. Ben presto nella storia degli animali marini la pelle ha secreto ogni genere di involucro protettivo. Presso gli invertebrati il manto secerne una conchiglia rigida di calcare o chitina. Nei pesci la pelle secerne delle scaglie d'osso e di dentina. Esse costituiscono anche delle riserve d'energia perché il loro fosfato è sostanza fondamentale per l'attività muscolare. L'epidermide che ricopre queste scaglie è sempre umida per evitare un naturale essicamento gli animali usciti dall'acqua hanno dovuto adattarsi. Gli anfibi perderanno le scaglie e la loro pelle nuda avrà bisogno di essere regolarmente bagnata. Dovranno quindi tornare in acqua ogni volta che sarà necessario. L'epidermide dei rettili diverrà impermeabile impregnandosi di una nuova sostanza la cheratina che formerà in superficie delle scaglie. Per far sì che il corpo perda meno acqua la loro funzione renale si modificherà e le urine saranno più concentrate. Per inumidire gli occhi dovranno far colare le lacce. Respirare significa prendere l'ossigeno contenuto nell'aria e scambiarlo con l'anidride carbonica. Gli scambi avvengono a livello delle branchie che sono gli organi della respirazione. Le branchie sono immerse nell'acqua. A volte sono fissate a delle appendici che portano anche le pinne da cui il nome di appendici birè. Le branchie si trovano dietro la bocca nella faringe. L'acqua deve quindi essere aspirata ed è necessario pomparla. Le branchie sono munite di orifizi esterni. Quando si apre la bocca le branchie si chiudono e viceversa. Tra i primi vertebrati marini esse erano situate in tasche che si aprivano all'esterno per mezzo di uno o più pori. In seguito i pesci muniti di mascelle ebbero branchie composte da lamelle o filamenti molto irrigati e dalla sottilissima membrana sostenute da un apparato branchiale formato da archi ossei. Presso alcuni condritti la tasca branchiale principale è diventata una piccola apertura posta dietro ciascun occhio attraverso la quale l'acqua passa senza passare per la bocca. Si chiama spiracqua. Nell'acqua come nell'aria la respirazione consiste nell'assicurare scambi gassosi tra l'ambiente esterno e il sangue. I vertebrati usciti per vivere sulla terra per respirare si serviranno di un organo diverso dalle branchie. Il tegumento o pelle delle branchie a contatto diretto con l'acqua deve essere umido per restare permeabile. A contatto dell'aria si secca e non funziona più. Un altro organo lo sostituirà il polmone. Il polmone è il risultato di un cambio di funzione della vescica natatoria un sacco aperto sull'esofago dove la pressione del gas presente nel sangue è sotto controllo durante l'immersione. questa vescica si trasforma in un polmone posto all'interno del corpo e quindi protetto da qualsiasi inaridimento. Ma un simile cambiamento ha richiesto altri aggiustamenti. C'è un altro organo che vedrà mutare la sua funzione le narici. Sino a quel momento organo olfattivo una di esse si aprirà sulla cavità boccale permettendo così che l'aria raggiunga i polmoni. Le branchie scompaiono ma non lo scheletro che le sostiene. Questo si trasforma nelle cartilagini della laringe che permetteranno ai coccodrilli di grugnire e ai premi uccelli marini di lanciare le loro grida.